Io Daniele Gambio, Emiliano Zeffoni, Fabio Gagianico, ciao io sono Francesco Cicerchio. Questo corso è molto formativo, inizialmente pensavo fosse meno pratico, infatti diciamo che sono rimasto bello da questa cosa. Io almeno personalmente mi sento formato. Penso che sia un corso molto interessante perché si parla di un campo in espansione molto importante per il futuro e credo che ci siano molte opportunità di lavoro. Dopo una prima fase teorica in cui abbiamo iniziato il nostro approccio con la fibra, è stato un approccio pratico nel quale abbiamo imparato ad aggiuntare, ad utilizzare la fibra in tutti i suoi utilizzi. Penso che ho imparato tanto da questo corso, visto che abbiamo potuto toccare con mano la barcchiatura, visto che abbiamo fatto delle lezioni in cui abbiamo imparato molte cose sulla fibra ottica. Sì, consigliere questo corso ad un amico, appunto, come ho già detto, perché è un corso molto interessante. Sì, sì, certo, la fibra ottica è il presente e sarà il futuro in Italia e in tutto il mondo. Assolutamente sì, anche perché penso che la fibra ottica ovviamente verrà, sarà da molto più in futuro. Sì, 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 sì. Perfetto, grazie mille. Niente, riferito. Niente, riferito.